musica ecco che entrano in campo FC Nicola Patan e Borussia Dortmund per questo match che vale la terza giornata della Super Cup ecco le testate che arrivano al centro campo Nicola Patan con la classica casacca orange con questa maglia bianca con strisce verticali verdi e nere ci aspettiamo un gran bel match tra due compagini che nella scorsa edizione sono state grandi protagonisti del torneo sicuramente ci sono individualità di spicco in questa gara il tocco palla a campo tra i due capitani Fisano e Fumo asido della gara Sandro Stanziano c'è l'inversione di campo palla per il Borussia a tra poco per la sintesi del torneo a tra poco per il corso a tra poco per il corso a tra poco per il corso Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.